Allora, luce anomala su cima panarotta. Si vede anche sul telefonino. Vediamo. Adesso si è spenta. È un bel pezzo, eh? Sarà mezz'ora che sono qui a guardare e adesso mi sono deciso di prendere il telefonino. Per il momento non c'è più. Se n'è andata? Saranno pompieri che lavorano? No, saperlo. Non c'è sta più. Domani si leggerà eventualmente sul giornale di cosa si trattava.